Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Il Suo Comando. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Il Signore è la nostra forza e ogni giorno ci sostiene, donandoci quella lieta speranza ricca di attese forti e convinte. Il Suo Comando è per noi la vita perché è fatta ad opera d'arte, ricca di bellezza unita a tutte le conquiste che ogni giorno noi facciamo. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Il Suo Comando. Il Signore è la forza che ogni giorno ci sostiene con ogni lieta speranza, ricca di degna attese. Il Signore è la vita fatta ad opera d'arte, di bellezza condita e forte in tutte le conquiste. Il Suo Comando è sacro e santo nell'amore divino, colmo di ogni reale progetto, solido e forte nel degno convito. La sua legge è divina, ogni anima ravviva, il Suo Comando rianima ogni bellezza forte e suggestiva. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.